Il primo passo è compiuto. Nelle remake della scorsa stagione la Fiorentina elimina il Fortuna Jorling nei sedicesimi di finale di Champions League. Dopo la vittoria per 2-0 all'andata contro le Danessi, grazie alla doppietta di Mauro, in terra nordica è Cleland a diventare protagonista, segnando a sua volta due reti, missione dunque compiuta e ottavi di finale conquistati. Non c'è stata storia neppure in terra scandinava, la bionda calciatrice di Cincotta ha indirizzato subito la gara per il verso giusto. Non c'è stata storia neppure in terra scandinava, la bionda calciatrice di origini scozzese ha indirizzato subito la gara per il verso giusto. Le ragazze di Cincotta si sono poi limitate a controllare, forti del vantaggio del Franchi, dove avevano di fatto costruito il passaggio del turno. La seconda rete è servita più che altro a far salire in classifica cannonieri la stessa Cleland, ma si è trattato di Accademia, poco altro. La vera notizia, semmai, è che la tanto pompata, anche dal punto di vista mediatico Juventus Human, invece è stata eliminata dal Brandby a sua volta danese. Si assottiglia dunque la pattuglia delle portacolori italiane in Champions League femminile, ma Firenze è rappresentata, segno importante di continuità del progetto.